Bentornati a un nuovo appuntamento con Quala Zampa. Questa sera andiamo a vedere qualche aspetto di un animale selvatico piuttosto comune nelle nostre zone che è la lepre. Innanzitutto dobbiamo distinguere la lepre che trovate qui proprio nella Bergamasca o comunque nell'Italia settentrionale è la lepre comune mentre in altre aree dell'Italia come l'Italia meridionale e soprattutto la Sicilia trovate la lepre italica. Hanno delle differenze che riguardano il mantello ma anche differenze nelle abitudini comportamentali. Quindi le lepri che trovate nelle nostre zone sono proprio chiamate lepre comune. Questo è un animale che pesa dal chilo e mezzo fino ai 6,5 chili quindi da adulta può diventare sicuramente un animale importante con un peso comunque non indifferente. Ha abitudini prettamente notturne, si nutre di numerosi vegetali e dalle radici ai fusti e soprattutto ha proprio una vita notturna. Quindi è più semplice incontrare una lepre durante le escursioni notturne o comunque girando in auto durante la notte che non durante il giorno. Alcune informazioni vi posso dire che la riproduzione avviene tra gennaio e settembre e la gestazione dura da 41 a 42 giorni quindi più del coniglio. Nascono da 2-6 cuccioli 2 o 3 volte l'anno quindi si riproduce circa 2 o 3 volte l'anno producendo da 2 a 6 cuccioli quindi una buona riproduzione. I primi passi i cuccioli li svolgono dopo 4 o 5 giorni e lo svezzamento avviene già intorno ai 21 giorni. Pensate che una lepre raggiunge la maturità sessuale intorno ai 6 mesi e può durare può campare anche 5 o 8 anni quindi un animale sicuramente che va preservato perché ha un'ottima importanza all'interno del bosco e soprattutto popola uno dei pochi animali facilmente avvistabili nelle nostre zone. Bene vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo appuntamento. Arrivederci!